Dopo aver partecipato a un concorso e averlo vinto, adesso restano con un pugno di mosche nelle mani. Sono i vincitori delle classi di concorso della cosiddetta buona scuola, in particolare per il sostegno e la lingua italiana agli stranieri. Ha preso il via questa mattina la terza edizione di Italia 5 Stelle, il raduno annuale del popolo del Movimento 5 Stelle che quest'anno si tiene al fuori italico di Palermo. Alla Kermess sono presenti i portavoce nazionali di Camera e Senato. È stato arrestato, esposto ai domiciliari un venditore ambulante di Vittoria che tre anni fa fu sorpreso ad avere rapporti sessuali con un ragazzino minorenne nella villa comunale. In quell'occasione fu una chiamata ad allestare i carabinieri. A Cate domani il sindaco della città Raffo parla alla cittadinanza. Per Raffo sono stati commessi dalle passate amministrazioni degli errori che hanno oggi portato a lente in dissesto. Noa edizione del nostro telegiornale, benvenuti a tutti i nostri telespettatori. Lo avete ascoltato dai titoli in apertura dove parliamo della buona scuola di Renzi oggetto questa mattina di una protesta da parte dei lavoratori che hanno vinto le classi di concorso della cosiddetta buona scuola. In particolare ci riferiamo al sostegno e all'insegnamento della lingua italiana per gli stranieri. Sono rimasti di fatto senza neanche un posto perché non assegnati dal Ministero dell'Istruzione. Sentiamo il servizio di Sara Donzuso. Rischiano di rimanere beffati molti docenti siciliani e non solo. Vincitorio è l'ultimo concorso e la cosiddetta buona scuola. Ma procediamo per gradi. Il Ministero doveva aver giustamente previsto una nuova classe di concorso, la 023, lingua italiana per le persone di lingua straniera, e aver fatto svolgere un concorso non ha previsto per quest'anno alcun posto in Sicilia per questi insegnanti e pochi in tutta Italia. La stessa cosa è avvenuta per la classe dedicata al sostegno per la scuola secondaria di primo grado. 56 posti previsti, 0 assegnati. La giustificazione è che i posti sono stati destinati alla mobilità straordinaria. Questo è comunque ingiustificabile, sia perché hanno un po' unito i due sistemi di reclutamento appartenenti a due diverse procedure concorsuali, sia perché per quanto riguarda il sostegno didattico, in particolare per la scuola secondaria di primo grado, è talmente alto il fabbisogno che si sono rivolti anche a docenti privi del titolo di specializzazione. E quindi questo è un danno gravissimo, perché vorrei ricordare che il punto non è tanto quello dei docenti che restano privi dell'incarico, ma quanto degli alunni che non hanno garantito un livello alto di istruzione, dignitoso, così come prescrive la legge con del personale specializzato, e avranno quindi del personale non adatto a rispondere ai loro bisogni formativi. Adesso cosa chiedete? La richiesta è che innanzitutto vengano fornite delle spiegazioni e delle motivazioni valide, ma soprattutto che si progettino degli interventi operativi affinché possiamo essere inseriti, così come da procedura concorsuale. Quindi l'appello è al mondo della politica, ai rappresentanti siciliani in Parlamento, ai sindacati, al Codecons, affinché possiamo effettivamente essere tutelati e garantire, ripeto, il diritto allo studio agli studenti interessati. Le nomine dei vertici per le partecipate al Comune di Catania non piacciono a Forza Italia che critica duramente il sindaco del Comune, Etneo. Le nomine effettuate dal sindaco Enzo Bianco per le partecipate catanesi sono l'emblema di una politica trasformista che ormai caratterizza il modo di governare, senza contare il fatto che molti dei nominati non hanno neanche le caratteristiche per ricoprire determinati ruoli. Ad affermarlo sono gli esponenti di Forza Italia che, durante una conferenza stampa convocata questa mattina, hanno specificato, con statuti nelle mani, gli articoli violati all'amministrazione comunale nella scelta dei presidenti. E citano nello specifico il caso dell'MT, il cui neopresidente è designato una delle caratteristiche previste all'articolo 22, ossia una comprovata esperienza di gestione di società dalla caratura, a bario più alta, di quella che si va a presiedere. Per quanto riguarda l'MT, l'articolo 22 dello statuto prevede espressamente che il presidente deve essere indicato fra coloro i quali hanno comprovata esperienza nel settore dei trasporti. Non è certamente il caso di chi è stato individuato. Io credo che si è attuata una politica di trasformismo che in questo modo e in questi termini non ha precedenti. Stiamo parlando di quasi tutti i nominati che provengono da esperienze amministrative, da assessori comunali a consiglieri comunali a candidati al Consiglio Comunale e liste di stancanelli del centrodestra. Enzo Bianco sbaglia e sbaglia sotto un profilo metodologico, ma sbaglia sotto un profilo di legittimità perché viola delle norme di legge che invece vanno mantenute e salaguardate. Questo comporterà che il nostro gruppo consigliare, presieduto dall'Avvocato Santibosco, presenterà una mozione per discutere in aula queste nomine, ma soprattutto perché riteniamo che la illegittimità delle stesse possesse ricondotta a una verifica anche dell'anticorruzione. E' una Palermo a 5 stelle, quella di oggi e di domani per il raduno dei vertici nazionali presenti senatori e deputati. Il Foro Italico di Palermo, sede nevralgica dell'intero Movimento 5 Stelle, almeno per un weekend. E' partito in sordina con la promessa, secondo calendario di animarsi nel pomeriggio e in serata, l'evento nazionale dei pentastellati Italia 5 Stelle. Dalle 11 l'avvio di svariate agora, spazi aperti nei quali confrontarsi e far intervenire i cittadini a corsi in massa davanti al litorale del capoluogo. Forum aperti a tutti anche nei vari stand allestiti sul prato del Foro e suddivisi secondo i vari comitati di tutte le città d'Italia, ma anche seguendo le realtà amministrative che il Movimento ha saputo conquistarsi negli anni come il Parlamento europeo. Tematiche di vario tipo, dalla politica economica di Bruxelles a quella della austerità, insieme agli immancabili attacchi nei confronti del governo Renzi. Dalle 18 sul palco dell'evento cominceranno ad alternarsi i nomi di richiamo non solo del mondo grillino, ma anche della musica e dell'arte. Oltre alla presenza del leader carismatico Beppe Grillo e di Davide Casaleggio, presenti i volti giovani del Movimento, dal sindaco di Torino, Chiara Appendino, ad Alessandro Di Battista. Non ci sarà almeno oggi il sindaco di Roma, Virginia Raggi, che ha voluto restare vicina alle famiglie colpite dal crollo senza aver riportato vittime, avvenuto a Roma di una palazzina a Ponte Milvio. Nel corso della giornata ha previsto l'intervento, tra gli altri, anche del Nobel Dario Fo e delle esibizioni dell'Orchestra Todrani, in merce fresca e in live di Gigi D'Agostino a partire dalle 22. L'evento si chiuderà domani alle 18.30. È stato posto ai domiciliari un venditore ambulante di Vittoria che aveva compiuto atti sessuali nei confronti di un minorenne. I fatti si verificarono tre anni fa. È stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Vittoria un quarantenne del posto. Il reato a lui contestato è atti sessuali con minori e si riferisce ad un episodio di tre anni fa. Una chiamata al 112 nel maggio del 2013 aveva segnalato che all'interno dei bagni pubblici della villa di Vittoria c'era una coppia in atteggiamenti intimi. Quando i carabinieri sono giunti sul posto non potevano immaginare però che la coppia fosse costituita da un quarantenne e un minorenne. I fatti, come detto, si registrarono tre anni fa. In questi anni l'attività giudiziaria è andata avanti ed ha permesso di emettere nel settembre di quest'anno un'apposita ordinanza che impone al quarantenne di scontare la pena residua di due mesi e 13 giorni. Per lui è scattato l'arresto per atti sessuali con minore. Secondo quanto si apprende dalle fonti investigative l'uomo, un venditore ambulante di Vittoria, non ha abusato del giovane. Quest'ultimo, che all'epoca dei fatti aveva circa 13 anni, non avrebbe subito violenza alcuna dall'ambulante che risulta essere anche sposato. All'epoca, durante l'interrogatorio, il quarantenne sminuì i fatti. Si è trattata di una debolezza o ceduto alla tentazione. Aveva dichiarato ai carabinieri. L'uomo adesso si trova agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Adesso torniamo a parlare della vertenza del personale addetto alle attività integrative al doposcuola del Comune di Modica perché inizia a muoversi la politica, inizia a muoversi in città, in particolare è il Movimento 5 Stelle ad intervenire sull'argomento. Sentiamo. La soppressione di fatto delle attività integrative del doposcuola da parte della Giunta Abate rappresenta una sconfitta per la cultura, per il sociale e per tutta la città. Insomma, non ci guadagna proprio nessuno, o almeno così sembra, a sostenere il Movimento 5 Stelle di Modica. La cosa che ci preme rilevare è che delle decisioni così importanti per la città, dove sono coinvolti migliaia di alunni con le rispettive famiglie e decine di insegnanti, non è giusto che vengano assunte uniteralmente da chi, detenendo una semplice delega, è convinto di poter fare il bello e il cattivo tempo, a scapito di chi non ha la possibilità di difendersi o i mezzi per contrastare determinati diktat, poiché di questo si tratta. Riteniamo invece continua la nota del Movimento Pentastellato che certe scelte così importanti vadano prese dopo una seria concertazione con tutte le parti in causa, dove ognuno ha la possibilità di fare la sua proposta e magari giungere insieme ad una decisione e un progetto più condiviso possibile. Cosa che non è fatto successa in questa triste vicenda, dove in un primo momento neanche i sindacati sono stati coinvolti. Insomma, le solite decisioni radicali, così come è successo in altri casi, e alle quali ci ha ormai abituato questa amministrazione comunale. Forse il sindaco ha dimenticato che rappresenta i cittadini e in quanto rappresentante di tutti i cittadini, deve cercare di interpretare il pensiero comunale e fare sempre e in primo luogo il bene della città. Giunti a questo punto, spichiamo che una tale importante questione che coinvolge diverse centinaia di famiglie e modicane venga affrontata e discussa pubblicamente, magari in un civico con sesso aperto a tutti, dove i genitori dei bambini coinvolti, gli insegnanti, i cittadini e tutti i rappresentanti delle varie istituzioni, abbiano la possibilità di confrontarsi democraticamente in un luogo istituzionalmente adatto, dove la democrazia ha, o almeno dovrebbe avere, la sua massima espressione. Certi che il presidente del Consiglio Comunale, continuano i grillini, saprà interpretare l'esigenza e il sentire diffuso di tantissimi cittadini, che anche sui social si sono organizzati a sostegno delle attività soppresse. Invitiamo sindora tutti gli attori coinvolti a fare ognuno un passo indietro e trovare insieme la più consona e giusta soluzione a quella uniteralmente già imposta a questa amministrazione comunale. Conclude la nota a firma del Movimento 5 Stelle di Modica. Domani è il giorno della verità, o quantomeno la verità del sindaco Raffo in riferimento al dissesto finanziario. Infatti domani sera si terrà in piazza Matteotti un comizio ad Acate. Sentiamo. E Enza Maria Mezzasalma, il nuovo assessore alla pubblica istruzione della giunta Raffo ad Acate, sarà proprio il primo cittadino a presentarla domani alla città nel corso di un comizio in piazza Matteotti, previsto per le 19. Domani saranno presentati anche i delegati Salvatore Stornello alla Cultura e Giuseppe Stornello alle politiche ambientali e ai beni culturali. L'incontro pubblico con i cittadini, ha detto il sindaco, si è reso necessario dopo lo stato di dissesto finanziario dell'ente. Racconterò agli acatesi tutta la verità, ha detto Raffo, e gli dimostrerò pubblicamente, con documenti alla mano, il danno enorme che si è recato negli anni passati al comune di Acate, e che oggi stiamo pagando, ha aggiunto il sindaco, sia noi amministratori che l'intera cittadinanza. Nei documenti sarebbero evidenziate le responsabilità della passata amministrazione con una serie di atti amministrativi che prenderebbero il via dal 2005, quando il comune, secondo quanto scritto dai revisori dei conti, avrebbe sforato il patto di stabilità perché le uscite sarebbero state d'ingra a lunga maggiore alle entrate. Nel 2012, poi continua il primo cittadino, assurdi provvedimenti condannarono il comune di Acate a non ricevere più finanziamenti per il pagamento degli stipendi, facendo uscire l'ente dal patto di solidarietà e con l'obbligo di versare somme ad altri comuni, una serie di scelte e decisioni che non portarono a chiudere il bilancio 2012, avviando di conseguenza l'ente verso il dissesto. Questo e tanto altro, il primo cittadino spiegherà domani sera ai cittadini nel segno della trasparenza, mentre l'amministrazione comunale sta già lavorando per risolvere il problema. È un'aggiunta itinerante quella di Vittoria che questa mattina come primo appuntamento per la visita dei quartieri si è recata in piazza Manin. Moscato ha dichiarato una piazza abbandonata da troppo tempo, per questo abbiamo scelto di iniziare proprio da qui. Sentiamo il servizio. Parte da piazza Manin, zona da troppo tempo abbandonata al degrado, l'aggiunta itinerante programmata dall'amministrazione comunale di Vittoria. Così come annunciato nei giorni scorsi, questa mattina il sindaco Giovanni Moscato ha presieduto l'esecutivo municipale. Il primo cittadino e gli assessori hanno incontrato numerosi residenti con i quali hanno affrontato le principali tematiche che riguardano la piazza ed il quartiere. L'obiettivo è quello di ridare e decoro all'intera zona garantendo al contempo agli abitanti serenità e sicurezza. Grazie a Manin occorrono controlli quantitivamente e qualitativamente molto più seri da parte delle forze dell'ordine e noi dobbiamo fare la nostra, non soltanto con i controlli da parte della polizia municipale ma anche cercando di fare rivivere il territorio. Quindi significa mercatino orionale, eventi culturali, eventi musicali, eventi teatrali, dobbiamo riproparci dell'azione, dobbiamo stare vicini ai nostri cittadini. Soddisfatto è il primo cittadino dell'esito di questo primo incontro al quale ne seguiranno altri per affrontare con i residenti i problemi dei quartieri e trovare soluzioni che vengano incontro alle loro esigenze. Sembra un piacere stare sul territorio, stare in mezzo ai miei cittadini, in mezzo ai vittoriesi ed è giusto ascoltare, capire le problematiche che esistono per cercare di affrontare. Non sarà facile, ma c'è tanto impegno e c'è anche tanta fiducia da parte della gente. Arrivano oltre 7 milioni per le infrastrutture del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. 7,2 milioni di euro saranno spalmati su tutto il territorio provinciale per consolidare edifici rigadenti nel centro storico delle città. La documentazione arrivata all'assessorato regionale e alle infrastrutture inviate dai comuni Iblei è stata seguita dal deputato Ibleo Orazio Ragusa. Cifre importanti per una boccata di ossigeno per il comparto dell'edilizia. Questi nei dettagli e le ripartizioni a Monte Rosso Almo 637 mila euro per l'adeguamento sismico del centro diurno per anziani. A Scicli ci sarà il consolidamento e il restauro della chiesa di Santa Maria del Gesù per un importo di 800 mila euro mentre 795 mila euro saranno destinate alla manutenzione straordinaria dell'immobile di via Regaldi di proprietà della congregazione delle suore dominicane del Sacro Cuore. Ed ancora a Scicli saranno avviati lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio Mormina Penna destinato a casa di riposo ricovero Carpentieri per un importo di 794 mila euro. A Geratana è in programma la ristrutturazione dell'edificio Suore Francescane dell'Immacolata Concezione per un importo finanziato di 710 mila euro oltre al risanamento e al restauro conservativo della chiesa di San Bartolomeo Apostolo per importo di 800 mila euro. Sempre a Geratana con 559 mila euro è in programma la riqualificazione urbanistica dell'edificio comunale adibito a Caserma dei Carabinieri. A Comiso il restauro e risanamento conservativo del Chiostro e la rifunzionalizzazione dei locali annessi al convento primo stralcio esecutivo è stato finanziato per la somma di 486.733 euro. A Vittoria invece arriveranno 231 mila euro per il restauro conservativo della Lanterna e della Cupola della Basilica di San Giovanni Battista. A Ragusa è previsto un intervento di manutenzione straordinaria per la sostituzione e recupero degli infissi esterni presso la Caserma dei Carabinieri. L'importo è di 403 mila euro. Infine ci sarà il progetto del consolidamento e del restauro di Villa Tedeschi stralcio di completamento per un importo ammontante a 990 mila euro. adesso è compito dei comuni e delle attività private conclude Ragusa a partecipare ai vari bandi. Slittono ulteriormente i tempi per l'elezione del nuovo CDA della Soaco. Il comune è da qualche settimana che ragiona su una importantissima rosa di nomi vedremo poi alla fine di questa rosa quale sarà il tetalo che sceglieremo. Dalle parole di Filippo Spataro sindaco del comune di Comiso tutto è pronto per il rinnovo delle cariche dei vertici della Soaco società che gestisce l'aeroporto Ebleo manca solo l'accordo finale al momento sui nomi e comunque top secret prima si attende l'elezione dell'amministratore delegato della SAC socio di maggioranza nella gestione della struttura aeroportuale Eblea dopo la vicenda dell'amministratore delegato Ornella Laneri nominata il 26 luglio scorso è decaduta per mancanza dei requisiti. L'elezione dei vertici della Soaco è ovviamente conseguenziale a quella dei vertici SAC e quindi InterSAC per cui noi in questa fase stiamo aspettando che si definisca la questione del consiglio d'amministrazione di SAC prima di InterSAC poi e saremo pronti a fare il nostro dovere rinnovando anche il CDA della Soaco so che insomma l'amministratore delegato non lo è più per questioni curriculari so che di qui a breve ci sarà un'altra assemblea per definire il nuovo amministratore delegato insomma poi a cascata si arriverà nel rispetto dei tempi materiali anche alla rielezione del consiglio d'amministrazione della Soaco i giardini del castello di Donna Fugata non sono belli o quantomeno non sono curati questo è l'oggetto di una nota del capogruppo del Partito Democratico a Palazzo dell'Aquila Mario D'Asta che ricorda come per l'opera siano stati spesi diversi soldi per far diventare i giardini una vera e propria opera d'arte così come erano fino a dieci anni fa 750 mila euro per il progetto e la realizzazione dei giardini del castello di Donna Fugata circa dieci anni fa soldi che sono stati investiti per rendere l'antico maniero uno splendore senza precedenti come potete vedere dalla fotografia che fu scattata dall'alto al termine dei lavori oggi invece il giardino si presenta quasi come una giungla sull'argomento interviene il capogruppo del PD a Palazzo dell'Aquila Mario D'Asta che ha anche ascoltato chi fece il progetto e si spese per la realizzazione dell'area verde si tratta dell'architetto Biagio Guccione dell'Università di Firenze da 45 anni toscano ma nato a Comiso e con cuore siciliano secondo quest'ultimo contattato da noi telefonicamente basterebbero 10.000 euro per riportare allo splendore di un tempo gli orti poi ovviamente bisognerebbe mantenerlo perché le cose belle per cui si spendono soldi vanno mantenute e non abbandonate l'architetto Guccione ha più volte tentato di mettersi in contatto con l'amministrazione Piccitto ma ad oggi da Palazzo dell'Aquila solo silenzio un silenzio che vuole interrompere adesso il consigliere Mario Dasta che con apposita interrogazione ha chiesto che intenzione abbia l'amministrazione comunale l'architetto Guccione ha sottolineato che pullulando di turisti la struttura basterebbe l'incasso di una giornata per eseguire i lavori insomma quella che mancherebbe secondo quanto si apprende dalla nota di Mario Dasta del PD sarebbe la volontà del fare Giacometto Nicastro collega dell'architetto Guccione potrebbe seguire da vicino i lavori in quanto già dieci anni fa collaborò nella riuscita dell'opera sta di fatto che con il ripristino delle condizioni di dieci anni fa il giardino sarebbe agli occhi dei visitatori molto più gradevole e decoroso Cresce l'attesa per guardare da vicino le frecce tricolori domani a Donna Lucata Lo spettacolo delle frecce tricolori previsto per domani a partire dalle 15 sul litorale di Donna Lucata è ormai alle porte oggi le prove generali l'esibizione sarà ben visibile dalle spiagge di Levante e di Ponente tanta l'attesa nella borgata sciclitana dove si prevede un notevole flusso di persone dieci aerei di cui nuova informazione e uno solista effettueranno 18 evoluzioni nel cielo ebleo il 313esimo gruppo di addestramento acrobatico farà il suo air show regalando acrobazie spettacolari il porticiolo turistico di Donna Lucata fungerà da base operativa l'organizzazione ha predisposto un dettagliato programma per favorire il parcheggio e l'arrivo nella borgata da sciclibus navetta da contrada a Zagarone mentre da Donna Lucata l'area parcheggio è stata fissata presso il mercato ortofrutticolo di contrada spinello ci sono inoltre altre 9 aree destinate a parcheggio 150 volontari affiancheranno polizia locale polizia e carabinieri per garantire la massima sicurezza da alcuni anni le esibizioni della PAN si chiudono con la formazione al completo che disegna nel cielo un tricolore lungo 5 chilometri è il maggiore Mirko Caffelli capo formazione della PAN a parlare della passione per il volo ma anche dell'adrenalinico ed emozionante show mi fanno spesso questa domanda e ho cercato negli anni di darmi una risposta e l'ho misurata secondo me con il battito cardiaco nel senso mi sono chiesto qual è il momento in cui ho i battiti più rapidi e contrariamente a quello che uno può immaginare è proprio durante l'ingresso e durante l'ultima manovra la lona fine quella finale il perché perché ho modo in quei pochi secondi di vedere il pubblico la gente che c'è a terra i flash fotografici e quindi lì è veramente un'emozione enorme per me la carriera comunque per quanto riguarda le frecce tricolore è breve? diciamo che va da un minimo di 3-4 anni che si rimane in formazione e fino a un massimo di 10 anni in base al ruolo e alla carriera che uno fa all'interno della pattuglia quelli che rimangono di più sono il capo formazione che diventa poi il comandante il 6 Pony 6 che è il leader della seconda sezione e il Pony 10 che è il solista è un po' il consiglio di amministrazione delle frecce tricolori pubblicità tra poco seconda parte del nostro telegiornale parliamo dell'evento Sposa Barocca a Modi che lo facciamo attraverso questo servizio del nostro ufficio commerciale si preannuncia un fine settimana l'insegna dell'eleganza del glamour e della solidarietà modica ieri sera è stata la madrina della tre giorni di manifestazione Isabella Capello a tagliare il nastro inaugurale della seconda edizione di Sposa Barocca l'evento anche quest'anno è stato organizzato dall'associazione Pink Evans di Emanuela Loredana Pulino e Isabella Capello con la direzione creativa e artistica di Sava in Sava di Federica e Giuseppe Savarino a padrocinare Sposa Barocca Laskom e il comune di Modica nella serata di ieri la prima sfilata nella suggestiva scarinata di San Pietro modelle hanno indossato capi e accessori del mondo del wedding a cui l'intero evento è ispirato a caratterizzare i momenti di attrattiva Alex Belli guest star di Sposa Barocca 2016 e lo spettacolo riservato alla danza e alla musica Corso Umberto ospita circa 50 espositori che presentano le loro aziende che orbitano attorno al mondo del wedding offrendo ai visitatori e ospiti un unico medistile raffinato ed elegante quest'anno un'edizione di insegna della solidarietà sono stati installati nel centro storico di Modica salvadanai urbani per accogliere fondi da devolvere alle popolazioni del centro Italia colpite dal terremoto un fine settimana all'insegna del wedding con moda spettacolo glamour ma quest'anno anche tanta solidarietà infatti Sposa Barocca quest'anno ha voluto essere molto solidale con tutti i terremotati del centro Italia e quindi stiamo invitando a donare almeno un euro per far sì che anche noi possiamo dare un contributo a tutte queste persone e a questa popolazione che purtroppo si è trovata in questo disastro e questo disagio quindi un taglio dedicato alla serenità ma anche per così pensare ad una realtà che fa parte del modicano e sto pensando ad Avimec sì Avimec dovevamo averlo come main sponsor prima che accadesse tutto quello che noi sappiamo poi purtroppo è successo quello che è successo però la Pink Evans lo ha voluto lo stesso come marchio nei main sponsor e quindi Avimec è con noi a Sposa Barocca 2016 il mondo del wedding è un mondo abbastanza complesso perché il mondo sta cambiando ma una certezza è rimasta cioè che il fondamento della società non solo italiana ma mondiale è la famiglia perciò inizia tutto da lì perciò l'evento del matrimonio è l'evento più importante non solo per chi si sposa ma per tutta la comunità Modica Modica ha una storia incredibile io penso che abbiamo la grandissima fortuna di vivere in un paese che ogni ogni città ogni posto che tu devi vivere è un'opera d'arte e Modica è un'opera d'arte italiana perché effettivamente è stupendo appuntamento a stasera e a domani dalle 20 in poi per Sposa Barocca presentano Isabella Capello e l'eclettico Gabriele Lazzaro è tutto per questa edizione del nostro telegiornale grazie come sempre per averci scelto e buon proseguimento su Video Mediterraneo Cambia ora l'edizione serale di MBTG dal 3 ottobre andrà in onda alle 20 e 30 nuova veste grafica nuovi servizi e notizie per un'informazione puntuale e corretta grazie a tutti grazie a tutti Autore dei sovrapposti